Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo daily vlog. Oggi avete un compito importante, perché dovete aiutarmi a fare la valigia, perché domani parto. Vado a Glasgow per quasi una settimana e la challenge più grande, come vi avevo già spiegato, che affronteremo in questo video, sarà fare la valigia. Perché in tutti questi anni di viaggi che ho fatto, non ho mai dovuto affrontare questa cosa del bagaglio, chiamiamolo, non è neanche da stiva, tipo il bagaglio sotto il sedile, lo chiamano insomma quello da mettere sotto il sedile, non è un bagaglio vero e proprio a mano, è un'altra cosa ancora, tipo un mega borsone. E non ci serve nessun problema se non fosse che io di solito quel tipo di borsone lo porto quando sto fuori una notte. E quindi, per carità, vado a casa della mia amica, quindi qualsiasi cosa si può sempre comprare, lei me lo può prestare, però sarà comunque interessante, quindi ho pensato facciamo il video, voi lo vedrete domani quando io sicuramente sarò già arrivata lì, avrò già preso l'aereo, mi sarà fatta il mio viaggetto, tra l'altro PS adesso attualmente per andare in UK serve soltanto il Green Pass, quindi le varie vaccinazioni, io le ho tutte e tre quindi più di quello insomma non posso fare, oppure il tampone negativo e bisogna registrarsi online e compilare il Passenger Located Form, che è una sorta appunto di documento per quanto riguarda il viaggio, che dovete compilarlo almeno 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 24 ore prima che arrivate nel luogo, quindi l'ho fatto ieri sera e in realtà basta, prima si doveva fare anche la quarantena almeno di due giorni o con quel tampone due giorni dopo che si arrivava, adesso non c'è più di questi problemi per fortuna, quindi sì, il mio unico problema rimane appunto la valigia, quindi metto a posto il letto, accendo il computer eccetera eccetera e poi cominciamo a fare il tutto. Sarà interessante perché per la prima volta sfrutterò tutte le mini size di prodotti che avrò, perché diciamo il mio problema più grande ovviamente sono i trucchi e la skin care sostanzialmente, ma stavolta mi preoccupano anche i vestiti perché non vado tipo che ne so al mare, ma vado in una città comunque fredda, quindi sicuramente l'idea è quella di partire con 70 ore di cimaglioni su di me, così non mi possono dire nulla e li ho per tutto il viaggio o altrimenti mi vedrete vestita sempre nello stesso modo, perché poi la mia idea, non so se mi porterò al computer o meno, quindi diciamo che la mia idea era quella di fare una sorta di weekly vlog generale e poi caricarvelo una volta che sarò tornata, staremo a vedere come riuscirò ad organizzarmi. Prima di iniziare a fare il beauty per la skin care mi dedico alla skin care, tra l'altro ecco un'altra cosa, non posso neanche portarmi le fascette, che roba ragazzi, oggi me l'ho il viso con questo che è un po' che non uso, praticamente dovrò andare a ripescare tutte le mini size dei prodotti che io mi metto da parte, perché ovviamente, che poi ho tipo, avete visto anche quando fate un ordine che ne so anche da Sephora, vi danno i campioncini, ecco io praticamente ogni volta che mi arrivano li metto tutti in una scatola, quindi devo ritrovare quella scatola che in realtà sta sotto l'armadio, cioè dietro l'armadio, e voglio assolutamente provare a portarmi quelli, voglio battere un nuovo Guinness World Record per il beauty case più piccolo della storia, cioè la cosa più grande che mi porterò sarà una spazzola, spero di riuscire a portare almeno la spazzola. Tutto ciò per non pagare il bagaglio, perché ho detto no, ci devo riuscire, capite? Perché altrimenti costava più il bagaglio che il viaggio in sé, cioè è follia. Adesso metto qua il mio siero, ovviamente, anche questa sarà una cosa... Devo chiedere a Alessia se ce l'ha, ma anche lei è fissata con la skin card, quindi dovrebbe avere praticamente tutto. Cercherò di portarmi proprio le cose che, sapete, avete quei 3 o 4 prodotti che non riuscite proprio a dire no, non posso vivere senza. Contorno occhi, io mi sto trovando benissimo con questo di It Cosmetics. È super nutriente, ma non pesante. Poi ovviamente che ve lo dico a fare, la mia super cremina. Questa è una di quelle che devo mettere assolutamente nei bottini, che ho scoperto che in tutti questi anni li acquisti da Primark. Sapete quanti bottini ho comprato? Li avevo tenuti tutti sotto al mobile del bagno. Cosa importante, anche se oggi non devo uscire in teoria, almeno non è contemplato, protezione solare. Altra cosa che devo fare, mettere a posto la scrivania che ho tutti quei trucchi sopra, che sono i trucchi che ho utilizzato per fare i look dei BT21. Quindi devo scrivermi sulle note tutti i prodotti che ho utilizzato, così magari mentre sono lì riesco anche a pubblicare qualcosina. Qui dentro c'è la mia scatola di campioncini. In realtà molti li avevo tolti, perché ovviamente poi scadono anche questi se non li usi. Però c'è, guardate che carino, di Make Up For Ever 25 ml, guardate che carino. C'è anche un mini spray di quelli per addormentarsi. Poi vedete, penso mi porterò questi, tutti questi di Mulac, tipo per i capelli. Poi appunto qui sotto ho tutti i vari, vedete, pottini da riempire. Questo addirittura è tutto il kit che avevo preso da Primark, che carino. E poi ancora, qui nel mio cassetto magico, di tutti i prodotti della skincare, ho questi qua, che sono quelli di Yellow Body, delle mini size. Anzi, fatemi vedere perché non mi ricordo. Ci dovrebbero essere diverse linee, però vedete che carino il mini scrub. Questo ad esempio ha tutta la linea alla rosa. Poi di qua mi sa che c'è la linea con la mia preferita, esatto. Questa qui all'aloe. Di qua dovrebbe esserci la linea al cocco. I mean, guardate la mini foam, vi prego. Cioè questa viene con me tipo subito. Sono meravigliosa, io adoro queste cose mini. Quindi intanto mi comincio a mettere da parte le cose che mi servono. Ah, Maroc, sei voluto venire qui vicino a me. In teoria avrei anche altre mini size che posso portare. Tipo, c'è questa che è la mini size del contornocchi che vi faccio vedere prima, che sono 5 ml. In tutto ciò poi la famosa valigia sarebbe questa. Il borsone più che altro. Però l'unica cosa che posso portarmi è perché è quello morbido, no? Poi stavo pensando di mettermi una borsetta a tracolla e lo zainetto. Però non so se la borsetta a tracolla e lo zainetto me la contano come due borse separate e poi mi fanno problemi. Quindi forse invece di questa borsa ne metterò una ancora più piccola, che magari posso mettere nello zaino nel caso mi fanno problemi. Solo che nei miei attimi di folli decluttering, probabilmente tutte le mie borsette piccole le avrò date via. Infatti, vabbè, qui a parte tutte le sciarpe, c'è questa, però è quella del concerto, non mi sembra il caso. Sennò c'è questa lilla piccolina. Ah, qui forse ho questa. Cioè, è piccola ma è grande allo stesso tempo. Quest'altra, quella di Moschino, ha i dettagli in oro, quindi no. Devo vedere. È tutto, è tutto in fase di devo vedere e poi in teoria qui sotto ci sarebbe lo zainetto che volevo portarmi. Poi ovviamente cose importanti, devo portarmi un pigiama, mutande, calzini come minimo e qualche vestito. Vi giuro, io stimo, stimo tantissimo le persone che riescono a portare tutto in uno zainetto. Ah, mi ero quasi scordata che adesso avevo messo tutte le borsette lì sopra. Ok, ce l'ho fatta. Beauty case trovato, sarebbe questo qui. È minuscolo, guardate la mia mano. Un po' di campioncini. Vabbè dai, ci sta ragazzi, c'è ancora spazio per dentifricio, spazzolino e altri pottini che mi devo portare. Ma chissà forse che questa missione verrà accomplishment. E poi ho preso, aspettate che vi ho messo qui sopra, questo per i trucchi. Mi porterò dei pennelli più piccoli, che adesso mi vado a mettere a cercare anche quelli. Anche perché in realtà come make-up volevo portarmi proprio le cose basiche. Quindi un paio di ciglia finte giusto per mascara, eyeliner, correttore, cipria. Sono così proud del mio piccolo beauty. Questo è il mio mini dentifricio. Ho messo un po' di cotton fioc, l'elastico, le mollettine. Il spazzolino c'entra preciso. E ora stavo capendo cosa poterci mettere in questi. Riempiamoli insieme. Allora qui dentro ci metto quella da notte. Metterò tipo una ventina di pump. Sono più che sufficienti. Ma non c'è l'etichettina con scritto night cream. Quindi la dovrò scrivere io. Poi di qua ci metto quella da giorno. Questi io ne uso quattro almeno ad ogni applicazione. Quindi ne devo mettere almeno, anche qui almeno una ventina. Ok, secondo me così ci sta. Devo solo capire per i sieri. Perché ho uno di questi col pump. Penso mi porterò solo questo. Perché almeno lo uso sia di giorno sia di sera. Quindi adesso tenterò di metterlo qui dentro. Ci vorrà una vita intera. Non so, sento che sto facendo una caulata. Allora in teoria ci ho messo tipo 10 pump. Quindi andranno più che bene. E qui dentro ci metto la protezione solare. Che è molto liquida. E quindi spero non si apra. Ho appena finito di scrivere le quattro descrizioni degli ultimi make up. Almeno ho liberato qua sopra. Ora è il momento di fare il check in. Quindi passaporto alla mano perché non si sa mai che possa servire. Tra l'altro è il compleanno di un'altra delle nostre amiche. Che magari avrò modo di presentarvi mentre sono lì. Quindi le stavo scrivendo un bigliettino. Dovrò fare uso di tutto il mio buono inglese in questi giorni. Io me la cavo benissimo. Quando lo devo leggere, lo devo comprendere. E sento gli altri parlarlo. Ma quando lo devo parlare io. Ho tipo l'ansia da prestazione. Perché ovviamente non sono abituata a parlarlo tutti i giorni. Quindi sarà molto 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 interessante. Soprattutto poi quando lo devi parlare con persone madrelingua. Vedremo, vedremo. Comunque. Allora check in. Inserisci il codice di prenotazione. Allora qui devo caricare il documento. Passaporto. E il numero. Data di nascita. 22 aprile 98. Stavolta ricordiamoci che non è come la carta identità. Questo scade nel 2019. Mi ha fatto caricare anche il QR code del covid. Lo dico perché magari voi se vi serve lo sapete. Prenzetto di oggi. Hamburger. Zucchine. Queste mi erano manzate ieri. Quindi è un classicone oggi. Come avete visto sono uscita a beccare anche la live di Yoongi. Quindi sono molto contenta che quest'anno mi sono fatta tutti i compiliani in live. Le ho beccate tutte. Detto ciò qua sto continuando. Sembrava facile. Sembrava facile. Qui ho cercato di fare una sorta di poscetta. Allora io adoro di vedere tutto in poscettine. Quindi vabbè ormai penso l'abbiate capito. Questa è la poscettina delle cose tecnologiche. Quindi tipo caricatori, batterie, insomma hard disk eccetera eccetera. Poi questa, questa ragazzi, questa è la poscetta dei trucchi. Non ho, non ho idea di come io abbia fatto. Capite la proporzione. Questa è la borsetta che forse mi porto. Anche perché è l'unica piccola. Quindi vabbè, cioè l'avevo presa da H&M tipo anni, 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 anni fa. Però tanto io mi vesto sempre di nero. Quindi questa non dovrebbe crearmi problemi. È super antiestetico perché è veramente brutto. Però è nel senso ma gli estremi, estremi rimedi. Quindi ci ho attaccato il mio igienizzante qua. Qui dentro ci ho messo il passaporto e nella tasca. Poi qui ci si mette il computer, occhiali da sole. Queste sono le manine clap clap. Che spero non mi fermino per chiedermi. Signorina, cosa ci deve fare con queste? Dovrò inventarmi che dovrò portare un regalo che ne so ai miei nipoti. Una cosa del genere. Poi altre poscettine, portafoglio, un ombrello perché non si sa mai. Vabbè, diciamo queste sono le cose importanti. Almeno qui nel caso poi mi c'entra anche la borsetta quella lì. Ora devo solo scegliere il pigiama, mettere mutande, calzini, vestiti, bla bla bla. E poi in realtà grandi linee ci sono. Ovviamente poi dopo mi devo fare la doccia. Mi devo rilavare i capelli. Non sono sporchissimi perché li ho lavati quando è che avevo fatto pure il video l'altro giorno. Vabbè, saranno passati tre giorni. Io di solito li lavo massimo due volte a settimana. Dovrebbe andare bene. Poi tra l'altro speravo di finire questo video prima di stasera in modo che ho tempo di editarvelo, di caricarvelo. Insomma domani parto alle due di pomeriggio. Quindi in realtà la mattina ho tempo di farlo. Però se sa mai. Meglio essere preparati. Adesso volevo provare con voi una ricettina che ho visto su Instagram. E io quando vedo una cosa la devo fare tipo subito. E sono due giorni che dico la faccio, la faccio, la faccio. Beh no, la faccio. Andiamo in cucina e la facciamo. In realtà servono quattro ingredienti se contiamo il dolcificante. Perché ci serve lo yogurt greco, il cocco rapè. Quindi non la farina di cocco ma il cocco rapè. Che ci ho messo anni a capire la differenza. Letteralmente la farina di cocco è farina. E il cocco rapè invece è quello che vedete tipo a scagliette piccoline. Come dolcificanti io ci metto il miele e poi cioccolato fondente. E dobbiamo fare tipo una sorta di bounty homemade. Vediamo. Ti metti qua perché c'è il sole eh. Tu sei un furbacchione. Tu sei un furbacchione e anche pieno di pelo. Pieno di panzina. Eh oggi c'è un bel sole, c'è un bel cielo. Poi devo anche mettere a posto tutti questi panni puliti. Tra cui credo ci siano anche cose che mi devo portare. Io ho una cosa facile. Che avendo tutti i vestiti neri non devo neanche stare a dire cosa posso abbinare con quello. Guardate che è una cosa da non sottovalutare. Perché veramente, cioè, vi salva la vita. Quindi prendi un pantalone, prendi una maglia, una felpa, cioè hai fatto. Tutto nero, non c'è colore. Insomma al massimo qualche scritta o qualche boh cosa. Poi volevo portarmi ovviamente la felpa dei BTS. Però ne ho presa un'altra da Coco Dive. E ho preso la felpa quella che hanno fatto fila per Dynamite. Mia madre mi ha detto l'ho appena lavata. Vedete com'è fatta? Ma è troppo carina perché non mi ricordo dove. Ah qui, eccola. Sulla manica c'è il simbolino qua. E davanti in realtà è così, con scritto fila. Allora guardate, questo è Cocco Rabè. Lo notate che è un po' più greggio. E questa è la farina di cocco. Che è un po' più piccola, però in realtà si può usare lo stesso. Quindi vedete, cioè, sono anni che mi chiedo la differenza. Pensavo di averla capita, ma ogni volta torno al punto di differenza. Non è possibile. Poi miele, lo metto un po' allo yogurt, questo è il faie. Ok, mescolato yogurt e miele. Ovviamente poco perché tanto il cocco è già dolcino. E ci metto un po' di cocco Rabè. In realtà vedete un po' voi quando si comincia a creare un impasto, diciamo, malleabile. Ora prendo un piatto, una carta forno. E faccio appunto di fare tipo dei filoncini così. Se l'impasto è troppo morbido, però non volete aggiungere altra farina di cocco, cercate di maneggiarli il meno possibile. Allora, questi sono come sono venuti. Voglio anche un po' schiacciatini. Ora li metto così in congelatore, proprio alla buona. Credo almeno due orette ci debbano stare. Non so esattamente quanto sia passato, però sicuramente due ore. E devo dire che sono belli freeze. Detto ciò, ora dobbiamo prendere il cioccolato fondente. Ovviamente lo sciogliamo e poi ci immergiamo tutti questi amici cucciolotti. Ok, forse potrei aver preso la ciotolina sbagliata, perché mi sembra... Allora, sciolto sia sciolto, ok? Ma mi sembra un po' piccolo, perché alcuni sono più lunghi di altri. Quindi li butto qua dentro, sperando che il cioccolato caldo non sciolga tutto quanto. E poi lo tiro fuori e lo rimetto sulla pellicolina. Dobbiamo solo farlo con tutti in maniera anche veloce. Ovviamente si rincolla subito carta ghiacciata, però a funzionare funziona. Ok, questo è il risultato. Praticamente sul piatto gelato, come vedete, si sono già raffreddati, quindi li potete già mangiare. Taste test. Oddio, gelati! Per carità, buono è buono. Se dentro non era congelato, buonissimo. Vi pareva che non mi stavo scordando qualcosa? Tre pennelli mi dovevo portare solo tre e me li stavo scordando, quindi... Ok, pericolo scampato. Il problema sono le scarpe. Volevo portarmi inizialmente lo stivale, quello alto, questo qui per intenderci. Il problema è che se io parto con la tuta, stavo ragionando, che non me lo posso mettere. E quindi c'è qualcosa da capire. Doccia appena fatta, devo finire un attimo di fare la skin care. Ed ora invece andiamo a cena. Tanto quello che devo mangiarmi è un uovo e la vellutata di zucca. Ok ragazzi, valigia chiusa, quindi possiamo chiudere anche questo video. Noi ci vediamo direttamente quando sarò lì. Non so quando riuscirete a vedere video. Io mi porto tutto, poi non si sa. Se mai seguite le storie che lì ci sono sempre, gli account qui sotto nell'info box. Quindi vi mando un bacio grande. Grazie per essere stati con me anche oggi. Anche se appunto abbiamo solo fatto sta benedetta valigia. Come se fosse la cosa più importante della vita. E ci vediamo presto. Ciao!